E' arrivato il doppio braccialetto che si divide per unire. Su ogni double una frase da condividere con chi vuoi. I love you, think positive. Ti vieto di accesso. Tante frasi e tanti colori, tutti glow in the dark. Un double in ogni bustina trasparente ha un euro e cinquanta. Li trovi solo in edicola.